Ciao amici, sapete vero che i cibi spazzatura sono rischiosi per la salute? Ma secondo me è un'esagerazione. Purtroppo no, lo dice la scienza. Secondo un team di ricerca europeo, il consumo di junk food o cibo spazzatura aumenta il rischio di cancro a colon, retto, stomaco, apparato digerente. Lo studio è stato condotto dall'Istituto Nazionale della Santé e della Recherche Medicale in Francia e dall'International Agency for Research on Cancer che fa parte dell'OMS. I dati studiati derivano da un precedente studio europeo durato oltre 20 anni chiamato EPIC, European Prospective Investigation in Cancer and Nutrition. Lo scopo di entrambi gli studi era dimostrare il collegamento tra alimentazione e cancro e capire quali alimenti aumentano il rischio di tumore e perché. I cibi spazzatura sono risultati tra i peggiori cibi in assoluto per il loro altissimo contenuto di grassi industriali, zuccheri, additivi chimici e per la totale povertà di nutrienti utili. Ora mi terrorizzi? Bisogna fare attenzione. Ecco i cibi peggiori da evitare. Ma prima mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace e tanti nuovi video. Allora, bibite gassate, patatine fritte, prodotti da forno industriali sia dolci che salati, snack confezionati dolci e salati, ma anche sottilette, formaggini, wurstel e carni processate. Senza scendere nel dettaglio, questi prodotti sono fatti con materie prime di bassa qualità che non contengono nutrienti utili al corpo, ma al contrario sono pieni di additivi come addensanti, insaporitori, coloranti, grassi trans, oidrogenati, zuccheri e altro. Non bisogna diventare estremisti, ma bisogna fare attenzione e limitarne il consumo. Se poi si parla di bambini e ragazzi, va bene un usfizio ogni tanto, ma questi cibi non devono essere l'alimentazione quotidiana con cui si nutrono. Per conoscere i migliori consigli su alimentazione sana e gustosa, basta iscriversi al canale con un click così è facile e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Se YouTube non vi avvisa quando esce un mio nuovo video, andate comunque ogni giorno sul canale perché pubblico sempre informazioni utili. Mangia sano e vivi meglio. Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!